La Regione Liguria ha un ruolo centrale in questo progetto e direi che per Savona essere location della presentazione di questo bando è importante. Sì, è importantissimo soprattutto perché è una location veramente bella, è più amare la storia della Sevilla, ma soprattutto è importante perché in alcuni di questi bandi, di questi progetti siamo stati capofila, in altri comunque siamo partner e sono bandi importanti, sono bandi importanti perché in un periodo, come sappiamo, di difficoltà di bilancio ci siamo già attivati in questi primi sei mesi di nostra amministrazione proprio per trovare risorse, trovare risorse ne abbiamo già trovate nel sociale, adesso ne stiamo attivando in questo campo e negli altri campi della cultura visto che siamo sul prima, quindi per noi è importantissimo questo, quindi un ringraziamento alla Regione e un ringraziamento anche particolare ai nostri uffici, perché devo dire che i nostri uffici sono sempre attenti a scovare talvolta anche i bandi e a portarli avanti. Grazie.